Nel primo tempo i friulani giocano un buon calcio e mettono subito la partita sul binario giusto, passando in vantaggio al diciannovesimo con una bella azione iniziata da Chierico e conclusa con intelligenza da Graziani che anticipa l'uscita di Landucci. Al ventiseiesimo il pareggio, su un capovolgimento di fronte Monelli di testa serve Berti e l'ala destra batte al volo senza difficoltà.